Augustin Passione, dedizione e una grande fiducia nelle possibilità del teatro di accendere la mente e di illuminare il cosciente Questa è la prova per la prima accusa, schiavitù In due parole Ottavia Piccolo Un capello, una parrucca, un po' di trucco e voilà, io ci sono Quest'anno sono 50 gli anni di palcoscenico E' prima persona, donna, la donna che è, poi è cittadina con le sue idee e poi fa l'attrice Piano piano, aia, piano piano Bello, bello, però la Piccolo in una cosa così da ridere è sprecata Non solo mi piace far ridere, ma in questo caso mi piace far ridere seriamente Attrice! Mi sono divertita, guarda un po', perché avete fatto un bellissimo lavoro di montaggio Racconto una cosa che è molto intima, io stavo recitando quando è morto mio padre Ah, bisogna aprire? I segreti del... Ma non l'avevo... Che bello! Ma c'è la confidenza che hai preso con questo libro? No, beh, certo, adesso chiudo, perché chissà che cosa mi combinate poi Adesso io questo voglio tutto quello che mi avete... Perché mi è piaciuto moltissimo Allora, io ti lascio con due regali Grazie Ipsedixic Adesso lo studio Ho passato la vita a inventarmi la vita Ah! Un'attrice! Sì, la cui recita è conclusa Un'attrice! Lunga vita ad Agustin Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!